Musica Fur di fine primavera con le nostre telecamere, in giro per la regione più bella del mondo. Una tazzina di caffè al bar Zazzaretta, che per l'estate vi farà gustare i migliori drinks del locale, in compagnia dei vostri amici per serate di allegria e Movida, a Tolentino, in piazza centrale. Poi, per chi vuole mangiare pane fragrante e sempre fresco, si punta a San Severino Marche, antica settempera per la Casa del Pane, e poi all'antica pasticceria per i dolci sfiziosi, tutti firmati Casa del Pane, San Severino, Tolentino. Grazie a tutti i nostri amici per i dolci sfiziosi,